Continuiamo velocemente con la cavalcata dello sestina, della sestina dello strega. Oggi niente tormentoni. Mi sa che non ce la facciamo. Andiamo con autobiogrammatica di Tommaso Giartosio, pubblicato da Minimum Fax, la quota indipendente di questa sestina che ha fatto sì che fosse una sestina invece che una cinquina. Perché come sapete da regolamento del premio strega deve esserci una casa editrice indipendente, e visto che nei primi cinque non c'era, il più votato delle indipendenti è stato Tommaso Giartosio e quindi lui è finito in sestina. La cosa può far storcere il naso ai più, però effettivamente è una regola. Funziona, porta anche cose buone, nel senso mescolanza e non... Poi varietà, ci sta. Minimum Fax dall'altro è una casa editrice molto importante, insomma definirla piccola mi sembra quasi veramente una limitazione. Questo libro è stato proposto da Emanuele Trevi, e questo già vi dà un po' anche la logica, e si tratta effettivamente di un'autobiogrammatica, ovvero una sorta di autobiografia attraverso le parole. Quello che fa Giartosio è rendersi conto che il linguaggio è un qualcosa che fa parte della nostra vita in maniera fondante, un po' come si era resa conto Natalia Ginzburg con il lessico familiare. Le parole non sono solamente qualcosa che utilizziamo per dare forma dei pensieri a delle frasi, ma fanno esse stesse parte della nostra vita in un qualche modo, e ci sono parole specifiche che magari non appartengono a alcuni esseri umani, ma appartengono solo ad altri, e non si parla solo di lingue, quindi di lingue diverse, ma anche proprio di parole della stessa lingua. Una sorta di gioco è un libro anche impegnativo per quanto riguarda la mole. La scrittura di Giartosio è sicuramente una scrittura abbastanza ricca, anche un po' barocca, una riflessione sul linguaggio, e poi sentirete anche come si esprime lui, è una persona veramente di grande cultura, di grande raffinatezza. Radiofonico. Un radiofonico, assolutamente, anche questo si capisce nella sua capacità anche oratoria. È una sorta di approfondimento terminologico di una vita, quindi come una vita possa essere influenzata dai termini che possono essere anche banalmente l'ola, il saluto dato dal padre quando ritorna a casa. Quanti di noi hanno ascoltato sempre uno stesso modo di salutare di un genitore che ritorna a casa? Questa è una riflessione che in effetti ho fatto molto leggendo quelle pagine. E quel saluto non è solamente un saluto qualsiasi, e ce ne sono milioni di persone che utilizzano quella stessa parola, quello stesso modo di salutare. Ma per te, nella tua testa, quella parola sarà sempre legata a quel momento, a quella persona, e si portela dietro anche la persona stessa, con i suoi effetti positivi o negativi sulla tua vita, l'importanza che quella persona ha avuto nel tuo crescere, nel tuo cambiare. E devo dire che da questo punto di vista è un libro sicuramente che dà modo di riflettere molto. Ricordo che mi hai capito una cosa simile durante un... eravamo piccoli, a casa di amici, il padre tornava dall'ufficio e sulla porta, sull'uscio, cantava Ecco papà, paparapapapà. Io ero fresco di ascolti di Profilax e cose simili, quindi ridevo, però mi faceva particolare... cioè mi fa sorridere adesso, mi fa anche tenerezza adesso, ripensare a quello è il segnale che papà è tornato. Esatto, esatto. E' un po' questo, è un po' un ripercorrere una vita attraverso il linguaggio. Sicuramente non è una lettura immediata, è una lettura che richiede il suo tempo, perché appunto il linguaggio e anche il modo in cui viene raccontato non è semplice, è ricco, molto ricco, e questo può essere appunto sicuramente una cosa positiva, però ecco, ne risente un filo la scorrevolezza, no? Da questo punto di vista. Anche perché sono 440 pagine. Questo ok. Quindi una sorta di romanzo di formazione, memoir, ma anche dizionario, un po' un misto di tutto questo. Per chi è interessato o interessata alla lingua, al linguaggio, è sicuramente qualcosa da non perdere, da affrontare, insomma, con grande curiosità. Ascoltiamo quello che per Giertosio, Domasio Giertosio, è la lingua, questo linguaggio, perché ha scelto questa via e lo spiega alla richiesta esplicita di Flavia durante l'incontro. Via. Il libro parla di linguaggio e parla di persone ed era importante quindi parlare di linguaggio e non di lingua. non voleva essere un manuale di linguistica, ma un racconto di come le parole vengono effettivamente usate come una roba, come una stoffa, come una materia che costituisce le persone. E quindi costruire anche le persone come personaggi, come persone che vengono raccontate a tutto tondo, ma anche con quegli elementi di semplificazione e medesimazione che fanno di loro dei personaggi. Per cui c'è una madre, c'è un padre, c'è un amico del cuore, e poi c'è un altro amico del cuore che scalza il primo, in qualche misura. E ci sono professori, siamo negli anni 70-80 e siamo negli anni che vanno dall'infanzia fino all'inizio dell'università, ai primi anni dell'università. E il linguaggio diventa un modo per raccontare ciascuna di queste persone. E quindi sentirne la materialità era estremamente importante. A volte ho veramente messo alla prova la pazienza, credo, dei lettori per il modo in cui mi soffermavo su una parola, un nome, per cercare di ricavare dai suoni di quella parola, dai suoni che la compongono, gli elementi minimi che stimolano la fantasia, l'immedesimazione, la relazione, eccetera. Quindi è proprio il tentativo di raccontare questo attraverso le parole. Poi magari faremo anche degli esempi più avanti, ma intanto mi limito a dire questo.